guarda se lo prendiamo tempo che esce il bollicino si facette come prendi il pesciolino pesciolino ma porca troia ma sta cosa l'hanno aggiunta l'anno 710 madonna che figosità è una delle feature più belle che aveva visto mai e ciao a tutti ragazzi quest'oggi come potete vedere ci siamo nuovamente qui su lì se se ne è andato sto lì imparando le mode assieme a Julix ciao allora ragazzi bam io mi sono mangiato un pesce e c'ho ancora fame hai mangiato il mio pesce e vabbè Julix non mangiare quella oggi dobbiamo fare una cosa bella per quella cosa dobbiamo fare prima di fare progetti strani tra cui la farm perché quella dobbiamo farcela perché sennò moriamo di farlo esattamente ovviamente io direi che dobbiamo fare un po' di legna perché la lei ok alberi sii ok pure io ci ho lascia però io stavo cercando gli alberi bianchi perché dove porca troia voglio gli alberi bianchi perché gli alberi bianchi sono quali fighe porca troia vabbè allora lui è razzista ragazzi vuole solo gli alberi bianchi no non è che sono razzista gli alberi bianchi mi piacciono da morire però può essere mai che non abbiamo una foresta accanto oh eccola là eccola là no c'è una foresta no non ci sono i biomi mi sa con birch perché boh come si chiama no no ci serve la foresta il biomo della foresta ci sono gli alberi quelli le querce i pini vabbè i pini sono questi vabbè gli abeti dai non siamo qui cioè noi vabbè natale ma sta diventando giorno o sta diventando notte scusami presumo notte perché diventa sempre notte oh mucche 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 aspetta che le ha ammazzotto tutto è mucche allora ci serve del cibo eh ci serve del cibo eh vabbè si però la poveretta allora nel frattempo vabbè prendiamo un po' di legno c'è il pene nero qua c'è il pene nero ma lo smetti di avere il pene eh lo so ma mi puoi aver fatto craftare un pene nero cioè seriamente seriamente perché il tuo non lo utilizzi quindi devi usare non è che il mio non lo utilizzi allora signor giulix eh non cominciamo allora è un dato di fatto ma diciamo cose molte strane diverse dal solito cioè sono così simpatici ecco chi lo uso un pene nero vabbè no si ci sono certi anoni che lo usano però nel senso giulix ognuno è il suo allora io stai cercando uh eccolo qua stai cercando gli alberi bianchi eh no sto giocando altro e cosa stai cercando di bello me lo dichi signor giulix io non mi ho già mazzo con contatto allora voglio fare una farm solo che qua sopra non penso sia un'ottima da fare una farm soprattutto perché c'è uno zombie no no la farm ho già un'idea io dove farlo la farm facciamo una bella farm fighissima perché tanto la casa alla fine ce la teniamo là dai perché manco per spostarci eh sì no sai qual è tutto il discorso il carbone quello bruciando la riemp eh non abbiamo tanto di carbone quello è il problema lo so lo so lo so anche se nello scorso episodio veramente abbiamo preso un botto di minerale come è già finito abbiamo uno stack nell'altra cesta ah sì non mi fermo ma dono ma dono quattro e mezzo cinque in totale mucche no 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 seriamente io sto ammazzando tantissime mucche che è messo la roba qui creeper creeper no 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 perfetto eh ok sì abbiamo un sacco ce ne abbiamo certo sì 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 tanto e tanto certo certo ma io non ti pare mica sto morendo io vabbè aspetta non mangiamola tutta ok allora io sto ammazzando te ste mucche ok se io facessi una parte del macchinare la voglio fare che servirà no no aspetta te no perché prima dobbiamo fare quella roba lì allora perché i macchin madonna ok dobbiamo pensare un attimino un pochettino non di calla estetica ma magari fare qualcosa di carino aspetta un attimo perché perché mamma mia sto ammazzando tutte ste mucche perché voglio un bordello di cibo voglio si può fare poi non c'è di strana qua zombie allora ragazzi allora siamo qui a letcare le padelle che è che gli spara ciao amico aia un rumore ti spara mi spara nel cervello un rumore ti spara perché ho sgracchiato i musetti bubussetti 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 allora io ho raccolto tutta ste rom giulisse aspetta è presente ok è presente quando sono sceso a 2 fps ok è presente quando prima ti dicevo non ci sono mucche esatto ho ammazzato all'incirca 50 mucche signor giulisse cioè seriamente ho trovato il bioma dove dove spawnano le mucche cioè seriamente sai tornare a casa spero vabbè si con l'waypoint poi non ti preoccupare si ma si ma figura ma va la quanto ne abbiamo di rubber proprio a buttare è ovvio che è da buttare qualcosa la triplica e tu mi hai fatto craftare quel penne nero sono costretto a usare un penne nero come muori 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 eccolo qua ma è fortissimo sto penne nero la uso come arma ed è una bestia ok si 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 attiese è successo scusere il rumore aiuto ragazzi i rumori sono tutti non molestati tranquilli buono ok no giulisse no 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 io arrivo io tranquilli ragazzi non è nulla allora giulisse hai detto le frecce aiuto sto un attimo un cuore tipo facendo restauri a casa ok 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 si come stai facendo restauri ha paura aspetta m white point casa teleport ok salve lei la staccò perché stai facendo la stone perché stai facendo la stone giulisse pure lei c'è giulisse c'è lei mia oddio c'è uno scheletro malintenzionato è uguale limone chiamato limone ciao limone ma come l'hai chiamato limone ma che nome è limone ma cosa limone giulisse allora aspetta un attimo allora intanto aspetta un attimo allora mi servirebbe del legno vabbè però noi siamo il legno normale dai alla fine va bene anche il legno normale allora che voglio fare delle belle robe ti piace il limone anche se sinceramente non abbiamo molto di più di questo la tua storia con il limone la conosciamo la tua storia con il limone veramente sta cucinando sta roba che c'ho fame limone fermo non si spara limone se ti prendo il limone oh limone ma smetti di parlare vuoi chiamarlo limone quella roba lì aspetta mentre mi crafto una spara dove è il mio cibo dove è il mio cibo oh cibo oh cristo 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 mi spara eh direi non è che si chiama fabrizio andrei mi consente sta arrivando da te oh l'ho visto che mi spara limone non ci rompere il cozzo limone muore in un mondo in cui la gente muore non so come ma sono morto anch'io va bene va bene grazie che è vicino a casa quindi va bene mi muovo aiuto 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 dai pure non dimmi che muore anche tu sarebbe una cosa orrenda da vedere sapete guarda che se la ride ancora ma sei morto ti ho visto fare a caso faccio pu si aggiudisce sta arrivando vieni il tempo c'è la sua roba eh grazie usi il teleport la c'hai il waypoint è vicino a 100 metri a casa oddio fai prima col waypoint ho trovato un altro limone ho trovato un altro limone che non è limone però limone aia limone c'è la sua roba eh lo so c'è limone si è bagnata tutta giulisse mi sa che ci servono assolutamente dei letti ma ma penso di aver questo cane da zucca piccolo no seriamente no dai ma ma seriamente c'è che torna a casa ma no se lei mi deve uccidere di risate me lo dica prima ma porca troia ma porca troia sei esplorato eccola qua eh a me manca qualcosa non vuole dire niente ma come sei morto allora giulisse dove sei sta arrivando allora nel mentre io faccio una bella roba allora giulisse vai io al lavoro vai perché noi lavoriamo di notte è la mia spada no no non ho nulla di tuo dove è la mia spada tutto quello aspetta non lo so no non ce l'ho io ce l'invento ce l'invento è pieno ora che ci penso ti lascio le bistecche qui dentro magari poi le mangi sto a caso ok oddio che cos'è una bella roba allora si ho giulisse dice un creeper madonna aiuto aiuto giulisse giulisse c'è un amico su accanto c'è un amico che vabbè però pure tu peschi di notte cioè seriamente l'ho pescato diciamo io lo prendo a pisellate io sto pisello lo uso come arma seriamente è fortissimo sto pisello come arma allora mi raccomando fallo esplodere nella piccola mini farm che abbiamo a pisellate a pisellate a pisellate il pisello del destino ho subito quello assurdo in faccia è stata una brutta spettina aspetta ho giulisse aspetti ma mi devo craftare un hash hai una dirt per caso hai un bel po' di dirt ma perchè sto usando la dirt come pavimento eh perchè per il momento è quella che abbiamo in più quindi usa la dirt come pavimento ovviamente certo ma a meno lo vediamo c'è voglio dire usiamo la dirt in casa usiamo la dirt in casa poi è molto ecologica c'è una casa l'abbiamo trovata ecologicamente dobbiamo ottenerla ecologicamente pulita ho sbaglio e diciamo minchiate una casa ecologica vabbè allora comunque questo qua sarà il ponticuello che ci porterà sì vabbè ma sai che abbiamo bisogno di metano tu hai un modo di metano abbiamo bisogno di metano che ci hanno tutti i cecchini metano in coming metano metano allora lo ammazzi sto deficiente qua lo prendo a pisellate lo prendo adesso una sossa io lo tenendo guarda guarda come li prendo a pisellate guarda come lo prendo a pisellate gli scheletri non li sopporto mamma mia perché tu li attacchi e questi si allontanano no no se tu che li attacchi è saltando li allontani no 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 loro si allontano guarda che non prende fuoco guarda che non prende fuoco ecco bravo spara Zulisse spara Zulisse ti prendo a pisellate nel culo anche se culo non ne hai perché essendo uno scheletro tu non hai culo quindi allora smetti perché c'ho gi-gi-gi che è stato eh tu sei stato non è che sono deficiente c'è giorno non ce ne so beh coraggio c'è stato qualcun altro è stato mette per l'ammaccio col pene ah no c'è le forbici ok io ho costruito casa ho ricostruito casa bravissimo Zulisse oh lana quanto? due porca troia Zulisse possiamo fare i letti forse 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 eh quanti ne hai? due tu quanti ne hai nella cesta? mi sa due ma che cos'è sta merda ma dai un cesto sta roba ma topai vabbè diciamo che già comunque abbiamo un qualcosa esattamente madonna mia fa schifo la merda però ok vabbè abbiamo riparto non è che fa schifo la merda è il fatto di merda vabbè sì ma fa comunque schifo la merda allora se ho giulisse a noi ci serve assolutamente quella mod che risistema le madonna quanto rubber madonna io così tanto rubber allora se ho giulisse pure a me piace questo posto è abbastanza figo allora qui faceva una roba del genere mi serve però la legna mi serve la legna allora io vado a fare legna se ho giulisse allora se ho giulisse 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 vado a fare legna vabbè io vado a cercare una foresta e metto assolutamente un waypoint lì per forza perché a me serve una foresta una cazzo di foresta ma me la sono fatta lascia no lascia che io sia il tuo brivido più grande ho tratto la foresta giulisse 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 ok ho un'armatura non so come però ho un'armatura hai un'armatura di che cosa di pelle di oro a caso oh mio dio ma perché ti fai l'armatura ah perché l'ha droppata si l'ha droppata col deficiente lì vero oh ci giulisse oh che bello che bello che bello ferro ho tratto del ferro del copper vabbè quanta roba quanta roba quanta roba vabbè la prenderemo magari nei prossimi episodi io sto doblando casa allora mi stai doblando casa mamma mia sei un ragazzino per bene oggi e c'ho l'inventario pieno di merda ero pieno di merda ok facciamo così che è più figo ok mentre sia giulisse io mi do all'opera mi do allora mi do è molto più ecologico perfetto mi piacciono le case ecologiche ragazzi le case ecologiche e se si sappi che te la butto giù quella casa allora giulisse allora intanto faccio un po' di legna perché ce ne servirà davvero tanta quello che sto facendo io ma stai facendo pure tu legna mamma mia mamma mia ma c'è un modo per fare legna veloce bruciandola no come il ragionamento ti serve legna la bruci esattamente fai altra esattamente tipo si potrebbe fare la 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 hai mai capito no però non si può fare perché serve un'altra mod e quindi no e quindi no motherfucker perfetto visto vogliamo fare l'impianto di alberi non si può fare ti puzza il culo va bene ok ci dobbiamo arrangiare 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 ma la tricapitator invece è aggiungibile eh si è aggiungibile però è un'altra mod si lo so che la tricapitator è un'altra mod ma può causare incompatibilità con altre mod per nulla quindi si potrebbe aggiungere prossimamente va bene ragazzi vi ricordiamo che ogni 5 episodi questo qui è un albero di gomma aspetta un attimo ho trovato un albero di gomma una volta che c'ho il pene nero a portata di mano io diciamo che sto un attimo frustando un'occasione giusta per poter distruggere il nostro orto perché tanto dobbiamo rifarcelo vabbè si una volta che ti dobbiamo rifarcelo in modo figo tipo zbam fronde orto capito capito ok va bene non c'è oh mela mela si cibo che non posso prendere perché ovviamente sono pieno di merda allora tipo ad esempio sai che cosa potrei buttare mi piace proprio il nostro design cioè siamo dicostruzati guarda sinceramente ho paura di vedere le cagate che stai facendo dentro casa seriamente io sono terrorizzato di vedere quelle robe lì allora ancora visto tutto io gli ho più ti butto giù tutto cioè perché dobbiamo fare una cosa carina è se ho giocato la cosa carina la sto facendo carina ma è l'interno mi terrorizza sempre di più mi te lo sono sempre più terrorizzato incredibile incredibile vi prego ditemi cosa sta facendo la motosega la motosega lo so che potevo fare la motosega se abbiamo fatto il pene il diamond drill poi c'è anche la spada laser facciamo la spada laser ma che ci devi fare con la spada vabbè con quanti colpi muoiono i uno i zombie bellissimo attivasi uno ok perfetto vabbè no ste cose non le prendo ah si non me ne ho fatto nulla c'è giulisse sto prendendo gli alberi 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 venga a casa no mamma mia giulisse ho te le idee in mente seriamente mamma mia vedrai giulisse vedrai giulisse ma sono che vede una casa ah no che è attaccata tutta la montagna vede una casa io la legna chiara l'amo basta a me piace la legna chiara basta legna chiara e fighissi boom poi il contrasto che fa con la legna scura è tipo bam 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 questo abbiamo capito mi sa tanto tempo fa achievement cop type eh co-tipper che cavolo no ma che ne so giulisse ma che ne so io sblocco così a caso ma che ne so anche dipende da leather tipo ho preso la leather a caso che ne so ma che ne so scusa è la leather ah la è la pelle di mucca pelle di mucca pelle di perché le mucche sopra gli alberi mamma mia si chiamano tarzan co tar trovate qualcosa per te mamma mia le tarzan co seriamente se anche voi siete invasi dalle tarzan co chiamate il numero 5554 i disinfestatori di tarzan co le mucche sugli alberi no fanno che cosa è le mucche che fanno ok il mio obiettivo principale era mi ricordo fare legna è diventato automaticamente uccidere le mucche ma cosa sono un assassino ok dice volve ammazzare le mucche ammazzare le mucche mon ciao pecora tu oggi sei tagliata anzi no 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 hai le forbici eh ora la sto tagliando ecco la stai tagliando che cazzo è la pecora emo lasciate mi scusi la pecora emo ok ma io così quasi ci metto il waypoint qua così ogni volta devo prendere della legna mi trasferisco qua che non c'ho voglia ogni volta di fermi tutta sta strada proprio per niente vai nella vita una volta c'è più di waypoint e li usiamo eh che stai facendo che stai facendo brutta persona che stai facendo raccontami 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 mi esponimi 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 mi stai esponendo vai dica dica stai aggiustando casa perché qualcuno dai aggiustando casa ma tu al massimo la fai brutta ma no al massimo la sto facendo bella ma cosa ma minchia guarda ora arrivo e dico madonna che schifo la rompo tutta va bene vai aspetta aspetta intanto facciamo una cosa m waypoint no no aspetta new waypoint lo chiamiamo foresta adesso pecora cos'è questo schifo giulisse cos'è questo schifo oh oh no mamma mia giulisse mi dobbito all'arte io ti spiace cos'è sta merda giulisse cos'è sta roba tanto levati facciamo così casa dovremmo migliorarlo lascia stare aspetta ah infatti ok stai facendo il fuori tu allora giulisse faccia il pavimento vai giulisse giulisse mamma mia guarda giulisse cosa ti faccio adesso guarda giulisse mi spaventa ragazzi giulisse ci sono i buchi in casa giulisse abbiamo i buchi in casa come vuoi fare la cosa se abbiamo i buchi in casa ma come vuoi fare il pavimento non ti preoccupare ce l'ho già il pavimento guarda qua guarda qua fammi farei levare tutta sta merda porca troia che mi dai tu questa è tutta la merda che mi metti tu nell'inventario ma smetti mettermi la merda nell'inventario a posto ok vado a prendere un po' di legno ah no mi servirà be aspetta ti serve legno io ce l'ho che legno ti serve all'ina ce l'ho mi servirà be magari prenderci l'altro ah quanto mi piace questa legna io adoro la legna chiara seriamente io vivo per la legna chiara poi guarda qua che bel contrasto che fa con la legna scura ah fa un contrasto bellissimo la legna scura basta no seriamente basta io ho fatto legna design basta basta legna sfaccosa lo solito leve mamma bambino mio cosa vuoi fare da grande legna design no legna design no tutto ma non quello e invece io farei legna design visto da grande metà non è una grande voglio fare no tutto da grande fare l'usciere scusi madre l'usciere ma papà io da grande io da grande io farei lo scienziata mamma mia seriamente quella è una roba malattissima mamma mia ragazzino seriamente ma quanto sta venendo bella questa casa cioè dovete mettere diecimila pollicino in su soltanto perché sta venendo bellissima ma no perché la sto facendo lì la sto facendo io quindi lì sia proprio una cacca lì ma solista polista ma cosa le case belle dove io ho studiato dei sannini oh io ho dei signori sto usando il diamond drill per levare la terra eh beh è sempre pala siamo lì mi sento così figo wow perché usi vediamo vediamo eh no vabbè questo qua non si leva però ovviamente volevo levare proprio la legna ma hey abbiamo il sistema quindi ok va bene allora giulisse giulisse allora nel frattempo mamma mia guarda qua eh sì va bene aspetta ho fatto troppo legno mi sa vediamo eh non fate tipo 19 stack basta va bene fatti ok perfetto perfetto oddio mamma mia ogni volta che deve laggare così sbagliate porca vacca porca vacca ok leviamo tutta sta terra ci va mamma mia che fai di bello vai elencami 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 come fai fans fai fans fai fans cioè craft i fans ma come fa madonna brutta persona giulisse mamma mia io 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 c'era un modo un tempo di fare questi sprint è scritto ricambi adesso 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 gli scritti ricambi non funziona più lo devi craftare adesso è craft i ricambi ma cosa ma che cosa mamma mia gente che adesso se ne andrà sotto i video delle persone a dire craft i ricambi ma cosa ma cos ma cos vi giuro se arrivano come di leggenda le vi banno guardate ecco guardate ho messo il pavimento io e già è diventata tutta un'altra cosa guardate c'è tutta un'altra cosa qua ci faremo una stanza qualcosa di carino per il momento poi per il resto wet the fuck bitch ok vabbè giù aspetta che so allora faranno le cose belle vediamo sta cosa bella ma che stai facendo giuli che stai facendo giuli che stai facendo pescare perché è giusto pescare a parte non mi spieghi che senso ha fare la cosa per pescare quando non abbiamo manchi i soldi per cagare giuli mi scusi guarda qua che ti faccio si guarda ulisse passione costruttore ehi siamo recando ciao 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 ti apposto che mi racconta di bello come mi state arrecando stiamo arrecando l'imparando le modi craft ciò nel prossimo episodio provate a indovinare chi verrà interromperci nello scorso episodio è arrivato il signor nicchia quest'oggi il signor chip nel prossimo episodio lo scopriremo soltanto registrando ok mi sono distratto che cazzo stavo facendo signor giuli giuli sta dicendo qualcosa di bello proprio io stavo dicendo qualcosa io dico sempre qualcosa di bello perché sono una bella persona perché io profumo di bello io pesco mi sa che ho sbagliato giuli io volevo fare il contrasto ok guarda guarda il contrasto giuli se ho sbagliato salve ne lo so giuli se ho sbagliato va bene a posto giuli guarda 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 che fiega il contrasto sto aspettando i pesci 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 aspettali là i pesci sono d'acqua cercali che cos'è ma perché sembra la casa di Tarzan ho preso un salmone vuoi un salmone no grazie come hai preso un salmone si ho preso un salmone ah i pesci quelli nuovi dove sono le porte signor giulisse le piazzi le porte e piazzale piazzale ovviamente a filo esterno aspetta ho un po' di salmone salmone ma non ci faccio niente col salmone va cucinato il salmone eh beh cucinano facciamo voi facciamo così con il salmone voi dove il salmone oh si dove il salmone facciamo così con il salmone buono facciamolo da oh giulisse porte belle questa ci sono le porte giungle la c'è un giulisse ti ha notito male ma ce n'è una no ce ne sono due se tu non lo vedi mi loga al massimo ok no aspetta la dobbiamo essere io perchè è tutta un pancata ok oh e io vedo le porte pancate cosa è la legna rimasta dipende che colore bianca mamma mia tanti basta se ti sono le scale se ti sono le scale tieni qua ne ho due ma che devi fare scusami con le scale dall'altra parte dall'altra parte mamma mia comunque sta diventando molto figa sta cosa allora si però contro gli zombie non è non è figa per niente dobbiamo fare un qualcosa che comunque ce l'ha chiuso no è fighissima sta cosa fighissima sta cosa è bellissima sta cosa allora aspetta c'è una bella roba allora qui facciamo tipo palafitta che fighissima sta roba così guardate che figa tipo palafitta ragazzi che è tenuta sottoterra no seriamente no 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 signor giulisse signor giulisse questa non è una casa questa è la casa signor giulisse aspetta noi siamo senza materiali quindi non buttiamo via nulla ok wow sotto a d'orta d'orta è importante l'uomo non vivrebbe senza dirt perché la dirt rende il tutto più bello no la dirt è una merda proprio si chiama merda giulisse allora qui abbiamo la farm di alberi allora hanno detto come la chiamavo la cosa più merdosa che trovavamo in giro ma ti ho detto merda però ti chiamavo merda allora va bene dirt dirt sia non so come fare la casa io la espanderei potremmo fare una parte no ma di che materiali la facciamo la casa perché la scella di merda in effetti fa abbastanza schifo ma siccome già abbiamo i pavimenti di legno ma non schifa la merda dicendo voglio già di romperle ovviamente era la cosa più schifosa che potremmo fare no sicuramente come la facciamo la casa come stone brick un salmone buono va qua stone brick potrebbe essere un'idea che dici non ci potrebbe fare stone brick va bene consigliatcelo nei commenti ragazzi come vi piacerebbe la casa comunque già comunque abbiamo qualcosa di carino dai volendo non è malaccio perché c'è una porta no ci sono due l'altra l'ho piazzata io era bucata eh vabbè eh si la porta è bucata sta cosa fa schifo alla merda te lo dico già a priori questo albero qui in mezzo mi sa che non è proprio il massimo in effetti tu sai aspetta usa il pisello usa il pisello no 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 devo usare il pisello aspetta vi faccio sentire il rumore perché non se lo ricordo aspetta faccio sentire il rumore del pisello ma sai quanti ne abbiamo di rubber non so cosa fare è il suono più schifoso in assoluto seriamente guardate non voglio sapere come l'ho andoppiato questo suono seriamente ma seriamente si sono messi la oh ragazzi mi serve un suono schifo no si si hanno messo la notch no 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 anzi no chi è che ha fatto sta mod si si hanno messo le chioterie ragazzi in inglese quindi boys it's a sound it's very schifo che schifo ma che merda ok zombie di merda tu dei modi di adesso anzi lo prendo a pisellate lo prendo schifoso a pisellate nero ti prendo ok andiamo vedi che è fortissimo sto pisello nero ah io mi sa che aspetta 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 cosa ho visto una pecora ho visto dove era la pecora era qui dove è sto rumore era qui è qui la pecora grazie pecora anche io ti voglio bene zombie questo è il rumore che fanno i macchinari anche si qualche volta si non ha rumori che fanno tu stai facendo ancora altra rubber ma sei curioso mi dai mi dai tutta la wool vuoi farci un lettino valendo ma se ne metti a cucinare la cobblestone allora ragazzi noi adesso mettiamo a cucinare la cobblestone oh si dormiamo adesso dormiamo giolisse proviamo questi letti non posso sono i mostri di vicino perdo mi sono curicato sono giolisse venga a letto abbiamo un mostro sopra casa vieni qua vieni vieni qua vieni a letto venga a letto amore venga a letto aspetta che mi corri oh dormi bambino dormi ulitino se mi vuoi bene baciami ok finita voi la frase allora ragazzi quindi ragazzi immaginate cantato dal vivo questa canzone ah ti ricordi la buonanotte a Roma mamma mia che era be ma come hai dormito meglio quella notte come no cosa non dormivi meglio però che tu non ti ha stati tentati comunque la batbox qua seriamente è bruttissima ora la sposteremo la sposteremo sì perché comunque adesso adesso faremo delle cose fiche vediamo magari vabbè ora vediamo ora vediamo comunque ragazzi nel prossimo episodio decideremo le pareti comunque per la maggior parte sono strombik esattamente strombik diteci se a voi va bene se no consigliateci magari qualche altra materia su come fare la casa visto che abbiamo pavimento il legno bianco che mi piace tantissimo e il pugno il legno scuro che mi piace tantissimo è troppo carino è troppo figo e poi abbiamo anche queste foglie che fanno le fatture le foglie fanno schifo alla merda e le butterò giù presto seriamente aspetto solo il momento adatto per farlo quindi ragazzi spallicciate se il video vi è piaciuto noi ci vediamo ad un prossimo video vi vogliamo bene e nulla ciao ragazzi basta anche l'estetica comunque fa la sua porca figura dai avere una bella casa è figo dai e ciao 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 ciao